ciao a tutti amici di cavalli in musica bentornati qua sul canale mi presento non mi avete mai visto sono un nuovo volto sono il nuovo acquisto di casa cavalli mio nome è oliver in arte noisy brain faccio il dj esattamente dal 2011 produco la mia musica ho avuto modo di studiare alla saia di hamburgo dove ho conosciuto grandi artisti locali ho condiviso lo studio con doppiatori e attori di netflix e ho avuto modo di far ascoltare la musica al produttore e manager di brindy spears basta parlare di me nuovo arrivo io nuovo arrivo lui sto parlando di alfa teta e eufonia il nuovo mixer appunto di casa alfa teta andiamo a vederne le caratteristiche rieccoci andiamo a giocare a esplorare un po questo mixer vediamo cosa offre è l'unico dei mixer rotativi la domanda sorge estremamente spontanea la risposta è no ci ha pensato già omni tronic con i modelli trm gli ecler ce ne sono parecchi in commercio novità che ha questo mixer innanzitutto abbiamo scoperto io e pierangelo che esiste un tasto wake up a tutti non l'abbiamo utilizzato per un po il mixer ed è andato in stand by è andato in stand by e nel mentre in cui io mi dicevo svegliati ho scherzato quel tasto e c'era letteralmente scritto svegliati in inglese quindi questa genialata è geniale questa genialata è geniale effettivamente c'ha tutti i send integrati per canale quindi direttamente tiriamo sul volume andiamo a sentire un po di roba direttamente dal canale potremo inserire gli effetti che vogliamo il mixer ha a disposizione uno due tre quattro cinque sei effetti di cui togliamo adesso l'effetto delay high pass filter quindi filtro passa alta tape eco eco verb riverbero shimmer e ext e xt cosa significa ext che abbiamo la possibilità di collegare dal dietro un effetto esterno quale effetto si può collegare lrmx mille sempre di pioneer si possono collegare tutte le poi le peda linee che si vogliono quindi mandare segnale alla pedalina e rientrare direttamente nel mixer e utilizzarlo per ogni singolo canale altra cosa nuova di questo mixer che io non ho visto personalmente in altri mixer è la possibilità sì di mettere l'effetto e scegliere in che banda di frequenza andare a metterlo quindi se sulle alte frequenze se sulle medie o se sulle basse frequenze altra cosa figa del mixer è assolutamente l'analyser che ti permette di vedere tramite un vumete un metro view la potenza di ogni singolo canale attualmente stiamo suonando con un cdj e come vedete c'è la metratura in view del singolo canale se avessimo collegati gli altri canali avremo in anticipo il balance totale sul volume di ogni canale altra cosa che si può visualizzare è lo spettro di frequenza quindi quanto effettivamente stiamo uscendo in basse frequenze medie e alte esattamente come se fossimo in studio ecco che guardiamo le nuove funzioni del monitor quindi effettivamente cosa si può vedere i dettagli del visualizer quindi tramite view possiamo cambiarne la visualizzazione questa è una visualizzazione mi verrebbe da dire orizzontale in cui è possibile vedere direttamente i livelli di ogni singolo canale più il canale del master aspetto di frequenza sempre presente una cosa che abbiamo notato è che c'è l'auto bpm quindi ciò che entra direttamente nel canale 1 viene auto auto livellato auto analizzato e ti dà direttamente la soglia del bpm in entrata la produzione mia quindi posso dire che l'ha rivelata giusta un'altra cosa è che scegliendo il riverbero non solo possiamo vederlo direttamente dalla manopolina ma viene presente anche nel monitor in situazioni credo di buio in poche parole se siamo in un locale con le luci soffuse o strobo in faccia e quant'altro questa funzione è molto figa per vedere l'effetto che andiamo ad utilizzare altra cosa rientriamo qua c'è la possibilità ovviamente di alzare e abbassare la luminosità del monitor questo cosa ci permette di fare ci permette di avere un messaggio non solo dei volumi quindi non preciso solo nei volumi ma effettivamente in tutto lo spettro di frequenza è rivoluzionario per quanto riguarda l'audio nel senso che questa cosa dell'analyser ci permette di fare un mix molto più omogeneo attraverso la visualizzazione delle frequenze che stanno uscendo nei nostri monitor gestibili esattamente dal isolatore master quindi andiamo a gestire le basse frequenze le medie e le alte per combinare non solo i volumi della traccia da una traccia a un'altra ma appunto tutto lo spettro di frequenza andiamo a sentire assieme i vari effetti che dispone la console partiamo con un filtro passa alta conosciamo tutti mettiamo un po di lei con la possibilità di determinarne la durata e di settare le ripetizioni abbiamo un tape eco un reverbero un eco verb quindi le due parti mixate e uno shimmer che è una composizione di tutti questi effetti altra cosa che mi verrebbe da dire sugli effetti che il delay e il riverbero possono essere si regolati per quanto riguarda la durata e sia sincronizzati con il bpm della canzone che abbiamo in sottofondo essendo una console ibrida passa attraverso un circuito digitale per poi essere trasformato in analogico forse vi ho già detto che i convertitori all'interno di questo mixer sono in collaborazione con Rupert Nif Design quindi hanno un suono estremamente caldo come gli equalizzatori e i banchi di messaggio che troviamo in studio in studi professionali volevo giocare un attimo sul parametro per vedere effettivamente cosa fanno forse sempre potrei resumarlo come un feedback quindi l'aumento di feedback dentro l'effetto quindi sinistra durata e destra quanto effettivamente esagera esagera l'effetto delay questa è una mia produzione in collaborazione con un attentante tedesca prodotto ad amburgo vediamo se troviamo altro scopriamo funzioni un po' ci prepariamo ovviamente ma il bello del giocare e di suonare ed essere dj è proprio quello andare a scoprire andare a sentirsi di nuovo bimbi nel senso che un mixer ha tante caratteristiche centrali ma sta alla persona a scoprirlo e trarne vantaggio per i propri dj set nel senso che molto probabilmente per come è strutturato io lo utilizzerei sinceramente quasi tutto è veramente completo allora sul sito dell'alfa teta effettivamente c'era scritto che non solo il feeder ha un ottimo grip e ha la grandezza giusta per le dita ma per quanto ho capito effettivamente se tirato su quindi se bisogna raggiungere un determinato volume velocemente ha un grip minore e se invece bisogna essere più come si dice dettagliati nel volume e più precisi con il volume quindi alzarlo moderatamente avrà un grip diverso un po' più rigido leggendolo sul sito mi sembrava un po' buttata lì effettivamente provandolo posso dire che è vero forse sono influenzato un po' da quello che hanno scritto dovrò giocarci ancora un attimino una cosa che non mi è tanto chiara è se possiamo accentuarle ma mi verrebbe da pensare che dato il nome isolatore mi verrebbe da pensare che non è possibile per accentuarle avrebbe senso utilizzare direttamente l'equalizzatore all'interno dei nostri canali nell'isolatore c'è la possibilità di aumentare quindi boost ecco che forse mettendo il più 6 db e il più 12 possiamo effettivamente aumentare le frequenze ecco che siamo sopra il nostro risultato iniziale ovviamente stiamo andando in clip perché stiamo andando in più 6 proviamolo con il canale 1 abbassato di volume andiamo ad agire sulle medie ed effettivamente sembrerebbero alzarsi vediamo risultato più efficiente utilizzando le basse frequenze ma perché è utile questa cosa perché se dobbiamo mettere un secondo brano che è basso di frequenza quindi metti caso che le basse frequenze non sono pompose e punch come le vogliamo andiamo direttamente a mettere un più 6 aggressivo sulle basse frequenze in modo tale da avere un mix bello gruvoso bello pomposo e non avere quel passaggio a un'altra canzone che poi blocca la pista esatto esatto andiamo a vedere adesso gli ingressi e varie uscite del nostro mixer abbiamo per prima cosa qua 4 digital in la possibilità sopra di entrare con un ingresso microfonico xlr o jack da un quarto ovviamente bilanciato la possibilità di collegare come vedete ovviamente i quattro canali la possibilità di collegare fono o line quindi fono per quanto riguarda giradischi e line per quanto riguarda cdj cosa che abbiamo fatto noi con il nostro pioneer la possibilità ovviamente di mettere dei monitor con l'uscita boot quindi l e r sempre bilanciata il master sempre l r per quanto riguarda rec abbiamo un rec sinistra destra e ovviamente le uscite le sand effects e l'abbiamo spiegate prima che servono appunto per collegare un effetto sterno quindi pedale e quant'altro troviamo il sen sotto e ritorno al master sopra eccoci alla parte finale la parte del prezzo e maggio 2024 si aggira intorno ai 3.700 euro per questo è tutto credo di aver detto tutto o quasi per quanto riguarda le caratteristiche dettagli e quant'altro motivo in più per voi di venire qua in negozio cavalli musica per parlarne di persona scrivete anche nei commenti quello che pensate in base al prezzo caratteristiche e niente vi saluto al prossimo video grazie ragazzi ciao mamma ciao papà